Un'ordinanza urgente chiesta dai vertici dell'azienda sanitaria ASL Toscana Sud-Est al sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli sul contenimento di eventuali contagi riguardo al caso del gatto che è risultato infetto dall'Issavirus. E' con l'ordinanza numero 146 che resterà in vigore fino al 27 di agosto che il sindaco Alessandro Ghinelli annuncia le misure restrittive per affrontare l'emergenza sanitaria legata al caso del gatto contagiato dall'Issavirus. Le colonie feline saranno monitorate e adesso è sospesa la campagna di sterilizzazione. Tutti i proprietari di cani e gatti che dovessero riscontrare episodi di morsicatura dovranno immediatamente segnalarli alla ASL. L'animale sarà successivamente isolato e tenuto in osservazione per 10 giorni, ma non al domicilio. E' evidente che l'episodio di morsicatura nei confronti del padrone, in questo caso è invece opportuno che il padrone lo segnali se ritiene che sia, diciamo, non è in un episodio giocoso, eccetera. Contravenire all'obbligo di denuncia di morsicature da parte degli organi che sono deputati a farla evidentemente è un reato. Come riusciranno i proprietari, soprattutto dei gatti, perché i cani forse sono più controllabili, a controllare, come lei ha detto in conferenza stampa, un po' gli spostamenti dei loro animali domestici? Per quanto possibile cercare di tenerli a casa. Non tutti fanno così e far cambiare abitudine a un gatto non è semplice, lo so perfettamente, però è uno sforzo che dobbiamo chiedere perché è un momento di particolare attenzione che dobbiamo porre perché i rischi sono notevoli. Si riguarda invece il monitoraggio sui pipistrelli, come avverrà e quando? I colleghi dell'Istituto Zoprofilattico delle Venezie faranno un sopralluogo volto a fare delle valutazioni del contesto nel quale vivono questi pipistrelli proprio per programmare un monitoraggio che già nei prossimi giorni verrà effettuato per andare un po' a valutare e quantificare il problema.